gentili telespettatori buona giornata la meloni va a caivano dopo i fatti di cronaca quei posti come nei film qui la polizia neanche entra dove ci sono le vedette ad ogni dangolo che avvertono arriva la polizia arrivano i carabinieri tutti che si chiamano spariscono così arriva la polizia non c'è più niente no come nei film come nel film di gomorra dove c'è la vedetta che avverte gli altri se arriva la polizia la pula è la madama come come dicono in alcune zone la madama va bene la meloni va a caivano e gliene dicono di tutti i colori va a fare la passerella ma vergognati gliene andette di tutti i colori e la meloni dice ma io non sto andando a fare la passerella modello numero 5 meloni con un abito tutto luccicante una borsa in tinta quindi dice la meloni non sono andata a fare la passerella sono andata a vedere ascoltare che cosa posso fare come capo del governo quindi quando va a caivano gliene dicono di tutti i colori passerella propagandistica poi ieri mattina un intero battaglione formato da guardia di finanza polizia carabinieri reparti speciali del ross i nuclei antisommossa i reparti di differenti reparti si sono unità cinofile di tutto hanno circondato questa zona e e l'hanno messa a suo quadro e hanno trovato di tutto di tutto anche i pappagalli esotici abusivi di tutto hanno trovato la meloni dice questo è solo l'inizio non ci devono essere più zone franche in italia abbiamo fatto questa retata questo è l'inizio di quello che dobbiamo fare nelle zone come caivano apriti cielo e voi direte ma apriti cielo che cosa cosa può dire oggi la sinistra sx la sinistra cosa potrà dire ma mica potrà dire che questa è una sceneggiata perché insomma sono andati lì 500 uomini delle forze dell'ordine con i blindati con i camioncini della della polizia cosa possono dire cosa possono dire che possono dire arriva saviano alla testa delle truppe vittoriose di sinistra no lui il capo gladiatore della sinistra no sapete che nel gladiatore c'è un generale generale massimo massimo qui è roberto roberto no lui che passa davanti ai sinistri dicono scrittore al posto che i generali dicono scrittore scrittore roberto saviano quindi lui il gladiatore del film di sinistra dice tutti in silenzio parla saviano e dice sceneggiata sceneggiata è una sceneggiata quella della meloni è una sceneggiata tipo tipo la sceneggiata napoletana no ha voluto fare la sceneggiata ma ha fatto la sceneggiata poi arriva bonelli quello dei sassi del fiume vi ricordate che in parlamento è arrivato coi sassi e la meloni è scoppiata a ridere in faccia quando bonelli ha detto che la meloni aveva prosciugato il fiume ada la meloni prima gli è scoppiata a ridere in faccia perché insomma come fai a non ridere in faccia bonelli insomma poi si è trattenuta no guardi onorevole no ancora questi poteri per prosciugare i fiumi non me li hanno dati una roba una roba troppo troppo da ridere troppo ridicola e così arriva saviano il capo gladiatore al colosseo no sceneggiata e poi arriva bonelli il secondo gladiatore ma un po quelli un po così dice propaganda beh il pd la butta in politica la butta in politica perquisizioni a caivano a tappeto controlli identificazioni sequestri ingenti sequestro di armi proiettili da guerra armi pesanti mitragliatrici di quelle mitragliatrici di quelle che si vedono solo nei film di platoon no ecco soldi ovviamente decine di migliaia di euro nascosti in appartamenti blindati corazzati con le finestre antiproiettili anti antisfondamento porte con corazzatù corazza porte corazzate che sembravano le porte quelle delle navi scompartimenti bene è una maxi operazione condotta dalle forze dell'ordine per ripristinare tentare di ripristinare la legalità mentre molti si compiacevano per l'intervento ad alto impatto una sparuta e rumorosa combricola di gladiatori di sinistra o possiamo chiamarli come li chiama un giornale i bastian contrari iniziava a sollevare incomprensibili obiezioni a sfondo politico quindi come dicono altri giornali il solito fango bene allora roberto saviano il leggendario scrittore di gomorra che ha definito la rettata di caivano una inutile sceneggiata di propaganda però poi dice i maxi blitz come avvenuto a caivano non cambiano il destino di un territorio non offrono riscatto sono operazioni fatte per pura propaganda politica ma caro il mio saviano un'operazione di questo tipo di polizia non ha il compito di risolvere i problemi di napoli non ha il compito di debellare la camorra l'andrangheta la sacra corona unita la sacra corona di re artù tutto quello che vuoi non ha non ha non ha le velleità di cancellare di sconfiggere la mafia le mafie no però fa parte di quelle cose che vanno fatte per ristabilire l'ordine e la legalità quindi ovviamente si fa questo poi ci vogliono le scuole gli asili i parchetti la palestra la cultura e ci vogliono opportunità di lavoro ce ne vogliono tante di cose messe insieme piano piano non è una cosa che fai tra il 4 e il 5 di settembre da domani 6 settembre caivano è diventata come lugano no no non diventa come lugano dopo due giorni ma il maxi blitz delle forze dell'ordine che mette a suo quadro caivano e va a cercare dappertutto fa parte dei compiti dello stato quindi roberto saviano non perde mai l'occasione di stare zitto e poi aggiunge il governo ha promesso una bonifica invece 400 uomini tra poliziotti carabinieri finanza hanno trovato appartamenti vuoti e sequestrato una quantità di denaro che per una piazza come quella sono pochi spiccioli ma certo saviano si sono avvertiti ci sono le vedette sono spariti via tutti sono stati avvertiti anche probabilmente molto prima quando ancora non era partito neanche il blitz dalle caserme pertanto parliamoci chiaro non c'entra niente la bonifica con il blitz il blitz è una cosa ma il riscatto eccetera eccetera sono delle cose che vanno avanti insieme ma non è che la melonia ha risolto il problema con questo blitz caro roberto saviano e lo sai anche perfettamente non ti rendere ridicolo perché sei sempre di più ridicolo arrivederci a tutti e grazie